Il governo rete. Abbiamo conferito a questa coalizione di governo lealtà, abbiamo conferito progettualità, abbiamo ispirato molte delle riforme e di questo siamo sicuramente orgogliosi. Abbiamo contribuito a dare una connotazione a questo governo infrastrutturale, importante, deciso che metta al primo posto il ponte sullo spettodifestino. Il ponte sullo spettodifestino non è un'opera che unisce quelle cose, è un'opera che a mente è logistica. Abbiamo superato in questo governo diversi da qui, l'articolo 18, la cui ne ha 12 ciccometriano conquisti, l'articolo 18, la luce sulla prima casa e tutto quello che è fatto venire con la differenza, la sinistra massimalista, superiore per contribuire a unirlazio al sud e a dare una dimensione europea a mezzogiorno di tempo. Grazie. Grazie.